nipote del poeta Salvatore Di Giacomo, iniziò piccolissimo a suonare la gran cassa e i piatti insieme al fratello Giuseppe, detto Pino, che suonava il rullante, prima di avere una batteria tutta sua a dieci anni e di essere assunto al cinema Sansone per, eseguire dal vivo le colonne sonore dei film muti proiettati, come la grande parata, che aveva per trama la prima guerra mondiale, imparando l'arte, che gli sarebbe presto tornata utile, di inventare suoni, rumori e trovate da ogni cosa che si potesse percuotere, durante la seconda guerra mondiale, dopo aver prestato il servizio militare con il famoso compositore Antonio Vian, al trentunesimo fanteria alla Renaccia, figurò nelle orchestre di Gino Campese, nello Segurini, Armando del Cupola e Gino Conte, nel 1949 seppe che il giovane pianista Renato Carosone era stato invitato a formare un trio per un, nuovo locale a Napoli, lo Shaker Club, la data dell'inaugurazione era prevista per il 28 ottobre, Gege si presentò all'hotel Miramare, dove Carosone stava provando con il chitarrista olandese Peter Van Wood, senza batteria, dicendo che l'aveva portata a cromare. Carosone e Van Wood, contrariati, cominciarono a dubitare della validità di Gege, che intuì tutto e per fugare ogni dubbio improvvisò una batteria casalinga. Una sedia di legno, un vassoio, tre bicchieri di diversa grandezza e tonalità, due pioli, un fischietto, nacque così il trio Carosone, che avrebbe segnato una svolta nella storia della canzone napoletana. Il primo dei dischi di successo del trio, incisi per la patè, conteneva O, Susanna e Scalinatella, suonate da Renato Carosone e Gege di Giacomo e cantate da Peter Van Wood, che nel 1952 lasciò la coppia per intraprendere una carriera da solista. Gege, invece, rimase al fianco di Carosone, che aggregò altri musicisti fino a formare una propria band, definitasi completamente nella seconda metà degli anni 50 a complesso Carosone. Molti dei brani di Carosone nacquero dalla lunga collaborazione con il paroliere Misa Il Merito. Dello straordinario successo internazionale di essi fu anche delle performance comiche di Gege, spesso concluse dal totale coinvolgimento del pubblico. Una sera, al Caprice di Milano, Carosone voleva un'atmosfera speciale per introdurre la panse, e Gege improvvisamente urlò, canta Napoli, Napoli in fiore, virgolette, trovando il suo grido di battaglia, che si adattò perfettamente a tutti i brani da lui eseguiti, dei quali la maggior parte narrati in prima persona, come pigliate, Napastiglia, Napoli in farmacia, virgolette, depiaciuta, Napoli matrimoniale, virgolette, e Caravan Petrol, Napoli petrolifera, virgolette, nell'autunno del 1957, dopo una lunga serie di concerti in Europa. Il complesso Carosone sbarcò a Cuba, inaugurando una memorabile tournée americana, dopo Caracas e Rio de Janeiro. Il 6 gennaio 1958 il gruppo di Renato Carosone approdò alla Carnegie Hall di New York, fino ad allora riservata alla musica classica, con un'eccezione fatta soltanto per il clarinetto jazz del mitico Benny Goodman, che aveva presentato il suo quartetto nel 1938, dopo il sorprendente ritiro dalle scene di Carosone del 7 settembre 1959. Di Giacomo si lanciò per un po' nell'avventura solista, affacciandosi ai festival di Napoli del 1961, dove cantò tutta a famiglia, ripetuta da Aurelio Fierro, che si classificò terza e pirichi cu che, ripetuta da Gloria Christian, e del 1962, dove cantò Chim e Fuoco, ripetuta da Cochi Mazzetti e O Monumento, ripetuta da Carla Boni, e mettendo in piedi un proprio gruppo. Ma non ebbe molto successo e decisi anche egli di congedarsi dal mondo dello spettacolo, facendo solo un'apparizione al fianco dell'amico di sempre Renato dopo il suo rientro del 9 agosto. 1975, ammalatosi di tumore negli anni 90. Gegé tornò a Napoli dopo aver vissuto per 40 anni a Milano, dove aveva subito una delicata operazione. Renato, temendo per lui, scrisse e gli dedicò la canzone addosta a Gegé, ma invece lo precedette di quattro anni, spegnendosi nella sua casa romana il 20 maggio 2001 e quest'ultima canzone vide la luce solo. Postuma, di Giacomo fu molto rattristato per la scomparsa del vecchio amico, ma non pote presentarsi a suo funerale a causa dei suoi problemi di salute, ai quali si aggiunse anche una forte depressione. Nel 2003, costretto sulla sedia a rotelle, ricevette dal presidente della regione Campania Antonio Bassolino e dall'assessore Teresa Matol, premio carosone nella sua casa di poggio reale, dove morì due anni dopo, prostrato dai postumi di un ictus, a 87 anni.